Questa iniziativa che si chiama Giungi un passo a tavola è un'iniziativa che stiamo portando avanti da 5 anni come associazione Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi proprio su scelta del nostro fondatore e vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sulla grave ingiustizia della morte per fame e del disagio alimentare in cui versano delle fette sempre più larghe di popolazione soprattutto in questo periodo e quindi vogliamo, ecco siamo in piazza, saremo in piazza a Rieti e in tantissime altre piazze d'Italia a Rieti saremo lì vicino a Via Cinzia, vicino alla statua di San Francesco e appunto saremo lì questo fine settimana Noi saremo lì in piazza a chiedere un aiuto diciamo concreto Noi nelle nostre menze sparse diciamo in Italia e nel mondo abbiamo più di 41.000 persone che ogni giorno mangiano basta 50 centesimi al giorno per poter offrire almeno un pasto caldo al giorno a queste persone perciò noi vi chiediamo questo, un piccolo contributo per aiutare queste persone simbolicamente lasceremo un pacco di pasta, un pacco di pasta che per ognuno di noi è una cosa ordinaria per queste persone è una cosa straordinaria, anche diciamo lo slogan aggiunge un pasto a tavola è un po' ricordare quello che dicevano un po' i nostri nonni arrivava una persona improvvisa a mangiare che facevamo? Allungavamo il brodo e allora è un po' questo che vi chiamo, cerchiamo di allungare questo brodo in modo che può bastare per tutti quanti e allora è un po' di più